Rieccoci, questa è la settimana delle unioni civili, matrimoni gay, matrimoni omosessuali, adozioni, stepchild, insomma sentirete parlare di tutto questo. Io non so che idee avete voi, se ci guardate un po' con l'occhiolino come se stessimo combattendo una battaglia di retroguardia, se sorridete di tutto questo clamore, se siete più avanti, se siete più progressisti, oppure se siete più indietro, se siete più conservatori, questo non lo so e questo non mi interessa. Quello che mi interessa invece capire è come un giornalista dei dati, un giornalista del Sole 24 ore, affronta il problema. Ebbene noi lo affrontiamo così, andando a vedere per esempio cosa sta succedendo ai matrimoni. Si parla di matrimoni, quanti sono? Quanti in Italia si stanno sposando, si stanno aumentando, si stanno diminuendo? Andiamo a vedere anche che cosa, quante sono queste famiglie arcobaleno? Si sono tante, si sono poche, si stanno crescendo, si stanno crescendo tantissimo. Come sta cambiando insomma il nostro tessuto sociale? Noi le contiamo, anche per capire il senso di questo dibattito. Un'altra cosa che possiamo andare a vedere è come è variata la tassazione sulle famiglie. Se ad oggi un single viene tassato di più, o tassato di più, insomma, se sono talmente tanti i single per cui il reddito che abbiamo dalle tasse diventa più importante. Andiamo a vedere, che tra l'altro sono dati oxe, per cui tutti i dati che noi possiamo trovare. Insomma, cerchiamo di dare una misura anche a un tema un po' spigoloso, un po' importante, c'è dentro di tutto, c'è la chiesa, c'è la politica, che è quello delle unioni civili. Per cui insomma il mio invito è quello di, prima di decidere da che parte stare, prima di dare etta ai propri stakeholder politici, ideologici e religiosi, andiamo a contare, per esempio, a un'altra cosa. Chi ha già fatto i matrimoni gay? Che cosa è successo alla società di chi ha già il matrimonio gay? Vi ricordo che nel 2005 in Spagna, per cui non in Australia, in un posto vicino, si sono stati introdotti nell'ordinamento del matrimonio tra omosessuali. La società spagnola è distrutta? Oppure la società spagnola è cambiata? Che cosa succederebbe all'Italia? Insomma, informiamoci, documentiamoci, guardiamo i numeri. Nel frattempo un po' di cartelli, ritorniamo. Il blog dei dati, www.infodata.ilsole24ore.com, il mio Twitter, per litigare, se vogliamo litigare, hashtag quotidiano in classe, andiamo su Twitter e vedrò di litigare con ciascuno di voi. Con ciascuno di voi assolutamente no, sto scherzando, però insomma, se vogliamo scambiarci qualche idea, facciamolo. Arrivederci!